Ecco il conto, signora Rossi Mi spiace, è un po' salato No, così tanto La sua lavatrice è stata danneggiata dal calcare Per l'acqua dura che c'è in questa zona Ci sarà pure una soluzione Certo, aggiungere Calfort ad ogni lavaggio Come consigliano le migliori marche di lavatrici Questa serpentina è piena di calcare Calfort l'avrebbe tenuta pulita D'ora in poi aggiungerò sempre Calfort Giusto Con Calfort la lavatrice vive di più Calfort la lavatrice vive di più